Il quarto gol di Nicola Valente in campionato è decisivo per i ragazzi di Orecchia, un punto portato a casa da Tamai e classifica che viene ancora più consolidata anche se ci sarà da lottare ovviamente fino alla fine. Petris per Furlan c'è Fazzino provvidenziale, quattordicesimo al ventesimo il vantaggio del Tamai con Zambon che serve una palla d'oro per Sellan che non ci pensa un secondo, palla nel sacco, vantaggio Tamai dopo poco più di un quarto d'ora di gioco. Sei più tardi Sellan e Furlan confezionano una bella occasione nitida da gol, qui Furlan ha un controllo alla Ciccio Graziani, palla lontanissima dal possibile piede sinistro, quello decisivo per battere a rete, zerbato, atterrato, caccio in posizione Viviani, non trova. Specchio della porta, ripresa Fioretti e Rivi, Fioretti palo, palla in area, arriva Rivi e ancora il portiere del Tamai Francescutti a trovarsi la palla tra le braccia, la risposta del Tamai ventisesimo è nella palla del 2-0 che il numero 10 Zambon ha davanti alla porta del portiere Fazzino. Spreca così come avete visto ancora, Legnago però con Longato, servito bene da Fioretti, il sinistro è debole, poi calcio d'angolo, zerbato, tre soldi e Friggi con uno di Friggi che ha palla buona di secondo, palo, palla alta sopra la traversa per il capitano del Legnago. 49esimo di gioco ma non è finita, Nicola Valente si procura prima un calcio di punizione, poi lo batte alla sua maniera per l'1-1 finale, credo giustificatissime le esultanze a finire. gara dei ragazzi del Legnago, 1-1 Tamai.